All'inizio si era pensato di un omicidio in rappresaglia dell'assassinio di Tonino Russo, poi però gli inquirenti hanno scoperto che il cadavere carbonizzato all'interno di questa vettura è quello di una donna, presumibilmente una ragazza anche molto giovane, non si conosce l'identità della vittima, l'unico segnale che potrebbe portare alla sua identificazione è la presenza all'interno della vettura di un anello con una coroncina di brillanti. Intanto gli inquirenti si pongono una domanda se c'è attinenza tra l'omicidio di Tonino Russo e quello di questa ragazza carbonizzata. Per ora l'unica cosa certa è che i killer della camorra non hanno più nemmeno quei distorti codici d'olore da rispettare, nessuno più al riparo della loro violenza. Chi è stata, Genà? Non so. Guardami dall'occhio. Non sei niente né Tonino Russo né che la femmina ha bruciato. E vogliono tuoi? Ti ha detto che non so. E allora ce le fa sapere. E tanna a credere. Salvatore conta morte un uomo sui non lo fa passare così. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Grazie a tutti.